Sono 15, 12 uomini e 3 donne, gli agenti che con il 1 settembre hanno preso servizio ad Arezzo assegnati alla Polizia Municipale guidata dal Comandante Aldo Poponcini. 10 sono a tempo indeterminato, 5 invece determinato ad 11 mesi. I nuovi agenti, oltre ad abbassare l'età media del corpo, portano la sua consistenza a 94 effettivi, di cui 55 uomini e 39 donne. Si inseriscono all'interno per un controllo nel centro città, un controllo territoriale per quanto riguarda i punti in cui è più richiesta la presenza delle forze dell'ordine. Un controllo del territorio che passa anche dalla piazza centrale Piazza Guido Monaco, dove adesso c'è un presidio fisso. Sì, lunedì si è aperto un presidio in cui il personale si alternerà per fare un controllo soprattutto sulla risicurezza della piazza principale della nostra città. I 15 agenti andranno presto a presidiare la città e le frazioni del Comune di Arezzo. I nuovi assunti, tutti provenienti dal concorso pubblico, saranno infatti impegnati in un corso di due settimane sulle mansioni che andranno a svolgere, dopodiché scatterà l'inserimento graduale nel territorio e l'acquisizione di una progressiva confidenza con le specifiche competenze dalla tutela della sicurezza nei punti caldi della città al controllo del rispetto delle norme anti-Covid. Perché oltre al solito controllo sulla sicurezza stradale e al controllo per la sicurezza dei cittadini, negli ultimi mesi, giustamente come ricordava lei, si è aggiunto il controllo del distanziamento sociale, dell'uso della mascherina e delle buone pratiche che i cittadini devono avere per tenersi lontano dal contagio di Covid-19. Io non posso che ringraziare tutti i vigili per quello che fanno ogni giorno. Il comando per questa sua rinnovata azione molto incisiva che ha sul territorio non è sufficiente, lo sappiamo benissimo. Io mi ero riproposto di arrivare almeno a 100 assunti, a 100 componenti del corpo per fine mandato, sono sotto di 5. Mi dispiace, non ce l'abbiamo fatta, ma nel conto dei pensionamenti qualche cosa si è perso. Non si può dire però che il Comune non abbia messo risorse sulla Polizia Municipale perché tra mezzi e uomini veramente c'è stato un grande rinnovamento. Qualche risorse saranno investite anche per il trasferimento della sede in via Fabio Filzi che tanto ha fatto discutere? A che punto siamo? Purtroppo siamo al punto di partenza, nel senso che c'è un contratto già sottoscritto con l'impresa, l'inizio dei lavori ancora non è avvenuto ma di fatto siamo all'incipit, siamo alla partenza di un lavoro che ha comunque un periodo di costruzione che è dell'ordine dell'anno e quindi mi auguro tra un anno, estate 2021, che un sindaco di Arezzo inauguri la sede della Polizia Municipale.